Ben trovati al meteo. Una perturbazione agisce al centro-sud, al nord invece, più vicino all'anticiclone che staziona nell'Europa centrale, il tempo si manterrà tutto sommato buono. Vediamo il dettaglio di martedì 9 agosto. Sul Veneto la giornata si caratterizzerà per le generali condizioni di bel tempo, come vediamo avremo tanto sole e cielo limpido, salvo per qualche isolato addensamento in corrispondenza dei rilievi, ma senza conseguenze. Caldo gradualmente più sopportabile, avremo temperature minime comprese tra i 14 e i 23 gradi, massime invece oscillanti tra i 29 e i 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato con cielo sereno, poco nuvoloso nel pomeriggio per qualche innocua nube sui monti e sull'alta pianura. Temperature minime sui 18-23 gradi, massime intorno ai 28-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sole prevalente, avremo qualche annuvolamento, ma insomma senza piogge. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Grazie per la visione!